Buongiorno, quello che è successo nella giornata di ieri, l'instabilità ancora presente, scusate, i temporali non estesi a tutte le regioni, ma insomma piuttosto presente, così era stato nella giornata di sabato, c'è questa instabilità dell'aria che normalmente lasciata a se stessa, cioè se non succede altro, si smorza, si attenua, scompare e questo avverrà nelle prossime 48 ore. Vediamo nelle ultime 24 però che cosa è successo, ieri a quest'ora vedete poche nuvole sull'Italia, qualche macchia bianca vicino con i temporali c'era, però guardate già verso metà giornata, siamo intorno alle 2, e compaiono sul basso Adriatico, sull'Appennino settentrionale, in parte sulle zone alpine, queste nuvole abbastanza limitate, abbastanza isolate, che però cominciano a dare i temporali, quindi c'è questa specie di paradosso, nuvole piccole ma intense. Guardiamo verso sera, siamo intorno alle 20, quindi tardo pomeriggio serata, ci sono più di queste nuvole, però vedete, se andiamo a vedere, ci sono zone che non hanno avuto temporali, ci sono zone che ne hanno avuto magari qualcuno di passaggio, qualcuna invece, qualche zona ha avuto una ripetizione di questi fenomeni, quindi i fenomeni sono comunque isolati. E poi durante la notte c'è l'attenuazione di questi fenomeni che tendono ancora a interessare più i versanti orientali, e poi infine questa mattina in cui troviamo come strascico, sia questa parte sul medio-basso adriatico e qualche accenno di temporale anche sulle coste del basso Tirreno, quindi questa instabilità ancora è presente. Previsioni per la giornata di oggi? Ci dovrebbero essere proprio meno temporali rispetto a ieri, che pure erano isolati, ma insomma una certa quantità ce n'erano. Più che altro, noi abbiamo indicato le zone, diciamo quelle interne del centro, l'Appennino soprattutto, centro settentrionale, parte di quello meridionale, e poi i rilievi fra la Calabria, la Basilicata, che potranno avere nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, qualche rovescio, meno temporali rispetto a ieri, la previsione è questa, poi vedremo se questa instabilità si attenua con la velocità con cui noi ce l'aspettiamo. Sul medio-adriatico ci sono questi fenomeni in questo momento, poi si allontanano, comunque si attenuano, potrebbero ripresentarsi grossomodo sulla zona delle Marche, zona interna delle Marche, qualche pioggia, quindi sono fenomeni talmente isolati che poi è veramente difficile andare a stabilire su quale regione ci saranno e magari su quella vicino o no. Per quello che riguarda le zone del nord, sulle isole maggiori le cose vanno piuttosto bene perché lì non ci sono stati temporali neanche nel corso del fine settimana. Per quello che riguarda il nord, le regioni nord-orientali possono avere qualche nuvole in più, ma qui i fenomeni oggi non sono previsti, non è previsto che siano presenti. I venti, abbiamo venti abbastanza forti a largo della Sardegna ma in diminuzione, in aumento invece quelli sull'adriatico. Vedete come la tendenza con questo miglioramento è ad avere venti settentrionali in prevalenza nord-ovest, qualche rinforzo ci sarà sui canali fra le isole maggiori, quindi da mossi i mari diventano facilmente molto mossi, comunque un po' di movimento dell'aria c'è, si invertirà nel giro di 48 ore e vedremo anche in che maniera. Allora per quello che riguarda la giornata di domani, giornata come dicevo, la giornata migliore perché si attenua ulteriormente questa instabilità, ci può essere qualche annuvolamento sulle zone dell'Appennino o delle Alpi nel pomeriggio, non dovrebbe dare piogge significative. Tendenza in serata, e ve l'abbiamo già indicato, ma riguarda appunto la serata, all'aumento della nuvolosità sulle zone di nord-ovest, Corsica e Sardegna, quindi tutti i settori più occidentali. Arriva un peggioramento da ovest, mercoledì interesserà marcatamente, in maniera decisa, sembra un peggioramento di una certa consistenza. Vediamo la giornata di mercoledì, piogge e temporali che piano piano vengono avanti, prima le nuvole, poi le piogge, poi temporali sulle zone di nord-ovest, medio-tirreno, a seguire quindi inizialmente meno sulle regioni del versante adriatico, il sud resta in questa fase un po' al di fuori. Questo peggioramento inevitabilmente porterà un certo calo delle temperature, soprattutto le massime, soprattutto fra martedì e mercoledì, insomma il salto sarà abbastanza forte.